Questa è la nuova Tesla Model S Plaid 1.020 cavalli 1.450 newton metro di coppia E da 0 a 100 in 2,1 secondi Pronto Vado? Vai vai Oh Dio Ma basta no 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 Porco Dio Porco 2 Porco di Mi sento le guance che mi entra in un'altra Piccolo disclaimer raga Quest'auto è veramente potente Davvero io sono convinto che in video non renda nemmeno il 20% di quello che è nella vita reale E proprio essendo così scattante è super semplice raggiungere delle velocità elevatissime Proprio per questa ragione in accordo con Tesla Italia abbiamo selezionato delle zone in cui testare questa macchina completamente prive di traffico Che ci permettessero di sfruttare le sue prestazioni per fare il video in totale sicurezza Qualsiasi sia la vostra auto mi raccomando non fate cose simili in strade pubbliche Quindi detto questo andiamo a scoprire la macchina Come vedete infatti mi trovo al Tesla Center di Milano che ringrazio per questo test drive Sia chiaro non è un video sponsorizzato E lei ha il gioiellino in questione Facciamo quindi un mini tour Entriamo in questa Model S Che come avrete sicuramente visto su internet si differenzia dal modello normale Essendo questa la Plaid Da questo volante fotonico tagliato Proprio come la cloche di un aereo Davanti a lui a differenza di altri modelli di Tesla abbiamo questo display Che ci fa vedere un sacco di informazioni utilissime E alla sua destra questo tablet gigantesco Che tra l'altro si può anche spostare a sinistra, al centro o a destra In base a chi vogliamo far leggere meglio C'è pazzesco ragazzi veramente si sono inventati ogni singola cosa Ti rendete conto che qua dentro c'è un meccanismo e un motorino apposta per farlo girare Come tutte le Tesla non ci sono bottoni Tra l'altro non so se ci avete fatto caso ma anche le frecce, i tergi cristalli E tutto direttamente sul volante Cosa molto figa, molto scenica Come guida se devo essere sincero in Italia Non so se sceglierei un volante del genere Abbiamo un sacco di spazio a disposizione per tutti i nostri oggetti Ovviamente postazione per la ricarica wireless direttamente per i nostri telefoni E telecamere letteralmente dovunque Per scendere abbiamo il classico tastino con manilla di sicurezza in caso di emergenza E nella zona posteriore un quantitativo di spazio che raga non avete idea Sarà che le Tesla hanno anche questo tettuccio panoramico gigantesco che però non si può aprire Ma si ha veramente l'impressione di poter navigare qua dentro Interessante che in questo modello c'è anche un display posteriore che vi permette di fare un sacco di cose Tra cui guardare YouTube, Netflix, Twitch o addirittura andare a giocare a tutti i vari videogiochi che già ci sono installati nella macchina Tra l'altro pensate che si possono addirittura collegare all'auto i pad della PlayStation E giocare direttamente via Bluetooth utilizzando loro sulla macchina Quante se ne inventa lo zio Elon? Bene ma per me e voi che siete giovani questa è un'auto top, semplice, veloce, intuitiva, scattante Ma cosa ne penserà una boomer tipo mia madre? Buongiorno Non sa neanche cos'è sta macchina raga Conveniva mettere un po' più grande Guarda se non lo vedi nemmeno abbastanza bene Posso anche cliccare qua e lui si sposta Si può vedere anche un film? Si letteralmente Guarda come si sta spostando Davvero puoi vedere i film Netflix Ma non ci credo Ma che frecce? Ma da dove salta fuori l'aria qua che non ci sono anche le bocchette Qua puoi regolare il flusso in base a come lo vuoi Non facciamo cagate? Ma no ti faccio vedere solo cioè così Allora mamma questa è una macchina performante Sei pronta? No Edo basta Ma basta no Edo Ma in quanto? In un secondo? E' pazzesca Basta mi fai scendere E a proposito di performance visto che con mio mamma vi ho dato giusto un assaggino Vi dico che quest'auto ha una modalità studiata apposta per poter partire nel modo più scattante possibile Che ovviamente non poteva evitare di attivare Non ho mai provato un launch control se volete lo proviamo ora la prima volta Ma perché non farlo? Da quel che mi han detto la macchina si mette anche con un assetto proprio apposta E poi parti come se lanciassi lo space shuttle Allora prepara l'assetto Guarda come scende Sta scendendo te ne rendi conto? Sì Vai vai Mamma mia Ma non è vero Ma mamma è fuori di testa Porco zio 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 Non ha senso Non ha senso veramente Tieni in rose con un peperone zio Mi mancava il sacco alla testa Mi mancava il sacco Ero salito con Ivan sul 488 e andava forte Visto che so che qualcuno da casa sarà scettico facciamo la prova del telefono Quando inizia ad andare lascialo pure va bene Eccola lì Eccola lì Eccola lì No direi che la prova del telefono è stata superata No è pazzesco Cioè era lì fermo basta non si muoveva più E qua è proprio dritta dritta in questa parte qua C'è proprio giù verticale Porca puttana Non t'ho mai visto Non te la faccio Non te la faccio Sì eh Cos'è sto respiro Fica è un'assurda Che storia E dai che te l'avevano scambiato per goi pechegno No Massimo Jake la furia Te l'aspettavi così di più di meno Boh Non mi aspettavo niente L'ossigeno Mi sento Stavo morendo Se sentissi il motore sarei più confident Non ti rendi conto della velocità che mi stai andando? No me ne rendo conto perché sento la fisica sul mio corpo Tutto bello tutti gasati e poi c'è Ale Molto tecnico molto preciso E cerca addirittura la macchina dei menu che non esistono Ma lo stai cercando veramente? Stai cercando forza Non vuoi guardare le pressioni Andiamo andiamo vediamo Ma queste qua sono quelle col bluetooth Sì come vi dice scritto drag strip pronto per prestazioni massime Adesso sta abbassando Si sta abbassando ancora dietro Eh Adesso La macchina fa tutto da sola Si muove da sola E tu ti puoi prendere a addormentare come fanno alcuni in America Bisogna comunque tenerla d'occhio È chiaro che se c'è un imprevisto o qualcosa Lei reagisce sempre anche più velocemente di noi umani ma siamo noi i responsabili quindi è giusto che teniamo le mani sul volante Per attivarlo Per attivarlo vado a fare un semplicissimo double tap sul tastino come potete vedere in questo momento ho impostato la velocità massima a 50 all'ora e la macchina da adesso fa tutto da sola accelera frena completamente da sola anche ovviamente in base alla macchina che c'è davanti e in teoria fa anche le curve in Italia siamo limitati ancora ad un certo raggio della curva io comunque tengo la mano sul volante perché non si sa mai come vedete abbiamo davanti una curva che è abbastanza importante e in questo momento la macchina sta letteralmente sterzando da sola. Per seguire la strada tutto in totale sicurezza fatto di dire che il cameraman ha girato Non stavo per dire che sono proprio un coglione ma proprio come è venuto spontaneo Questa funzione si utilizza spessissimo in autostrada io per esempio ieri ho utilizzato per tantissimi chilometri questa macchina che sono andato a Torino a fare delle cose però sinceramente io sono super fan di questo utilizzo anche quando come in questo caso c'è un sacco di traffico devi continuare ad accelerare frenare accelerare frenare una rottura di palle pazzesca andando ad attivarla ti scordi veramente che stai guidando Come al solito presti molta attenzione ma sei super nel comfort e super nel chill tra l'altro specifico che in questo momento noi stiamo mantenendo questa distanza dalla macchina davanti perché l'ho scelto io e in particolare da questa schermata posso proprio andare a scegliere di essere più vicino o meno vicino rispetto alla macchina davanti in base a come mi sento meglio io Meno male che ho tenuto la telecamera bro Ma si è stortato così ora? Si 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 No non ci credo Si si quando è accelerato si è stortato Ma guarda che è duro vero eh Se siete appassionati di auto io lo so che cosa vi state domandando va bene l'accelerazione ma per il resto per il resto raga è pur sempre una macchina che pesa più di 2100 kg con un passo molto molto lungo e che forse è un po' più adatta per le strade americane rispetto a quelle italiane Però rimane pur sempre una macchina super figa con un sacco di funzioni e giochini per certi versi anche molto stupidi Cioè scusa c'è la marita che... Ah ma si sente da fuori Ragazzi ma con quale auto potete fare una roba del genere? Ti iscrivetevi al canale? Che gag pazzesca eh È uscita bene eh Sì? Sì Bene Sono per niente